ciao ciao tutti allora oggi ci sveli tutti i segreti del metodo boschi per combattere la mediocrità oggi è uno spiega tutto sì no sarà molto sarà un piccolo bit però sì è un inizio perché poi non ho neanche ancora capito io sono pieno di dubbi però intanto quello che ho cercato che ho capito un po lo condivido tutti i metodi sono work in progress e quindi vai il palco è tuo grazie grazie bene bene ciao a tutti e tutte benvenuti cioè grazie a me ea tutti no allora oggi sono particolarmente contento perché dopo 11 anni di frequentazione del freelance camp e ne ho le prove a lego foto questa è una foto di risalente al 2011 al primo diciamo alla prima aggregazione di freelance al bocca barranca e volevo dire che appunto io c'ero e quindi niente io sono un grafico sono un progettista grafico mi occupo di identità visiva e web design dal 2000 più o meno ma in particolare sono particolarmente rilevante per oggi perché sono 11 anni che sono freelance e quindi anzi qualcosa di più però diciamo ufficialmente 11 anni e quindi io lavorando da freelance frequentando il freelance camp che mi ha aiutato tanto a crescere e a capire sto passo buona parte del mio tempo a pensare a come lavorare meglio come essere più efficiente e come soprattutto entrare in questo loop per cui spaccare ti fa acquisire sicurezza per spaccare ulteriormente mi perdonerete diciamo il giovanilismo di usare la parola spaccare però diciamo la cosa più sintetica da scrivere in queste slide dove ho cercato di non cambiare mai la dimensione del fonte per cui sarà tutto grande così tutto in regular noterete questa cosa adesso ve l'ho già detta comunque è così quindi entrando in questo loop la mia idea era sempre quella di cercare di efficientare il processo e soprattutto di evitare le bruciature del freelance che come dire sono inevitabili sono le bruciature che aiutano a crescere e oggi utilizzerò molti diciamo meme pseudo culturali utilizzando la grande marina abramovic e facciamo diciamo una brevissima carrellata di quelle che sono state le bruciature diciamo quelle che probabilmente abbiamo condiviso in molti per esempio la vergogna di essere pagati per un lavoro che ci piace questa è una cosa che ci ho messo tanto tempo a superare ora l'ho superata felicemente diciamo affizionarmi alle proposte per esempio quindi io poi lavorando nella creatività affizionarmi alle proposte creative era quasi spontaneo e poi però ci rimane sempre molto male quando le tue proposte vengono scartate le tue idee vengono in qualche modo modificate e tu vai a pensare che sia un giudizio morale sulla tua persona e invece non è così iniziare un progetto senza un accordo né economico e né progettuale un'altra delle bruciature da cui sono passato e forse ci siete passati anche voi ma soprattutto oggi vedete lo zoom sulla faccia di marina e sulla bruciatura e avere l'illusione insomma che le offerte e i progetti si presentino da soli quindi questa è una degli aspetti chiave che vorrei toccare oggi perché ho scoperto che non è così e quindi mi sono diciamo scervellato questo sono proprio un'immagine di me che penso e che ragiono su che cosa posso fare perché quando mandavo le offerte o i progetti le creatività come dei pdf a freddo così via mail a questa è la mia proposta insomma non funzionava un granché e quindi oggi sono qui a condividere con voi lo schema spiega tutto diciamo valido per tutti i progetti punto exe quindi vi direi di fare doppio clic su questo allegato diciamo un po particolare andiamo a vedere quindi io ho cercato di capire come si sviluppano tutti i miei progetti insomma dopo vent'anni in qualche modo qualcosa l'ho diciamo potuta schematizzare iniziamo sempre con un contatto cioè ciao ho visto le tue cose mi piacerebbe fare qualcosa insieme bene la fase successiva che non sempre è stata la successiva nella soprattutto nella fase iniziale della della mia carriera e si deve essere l'offerta ok quindi l'offerta ormai per me è consolidata questa roba però ci tenevo iniziare a condividerla perché sono magari cose che aiutano noi freelance a capire che si può schematizzare e ottimizzare il processo e nel mio caso c'è la parte poi di creatività cioè iniziamo a progettare soprattutto è questa qui la parte diciamo con più valore aggiunto sicuramente la creatività poi seguita dalla parte di esecuzione ok avuta l'idea la strategia e tutto ora bisogna farla e quindi bisogna farla bene con gli strumenti giusti eccetera naturalmente c'è la parte di fatturazione che io ho messo al quinto posto in realtà è diciamo disseminata come quel tipo che sparge il sale sul gomito in tutta la parte di in tutto il flusso di progetto dall'inizio fino alla fine deve essere diciamo fatta di tanti chicchi di sale e poi c'è la promozione del proprio lavoro e diciamo uno schema più accurato sarebbe questo qui secondo me quello diciamo ciclico per cui tu entri e hai le stesse fasi che finiscono nella promozione e poi si ritorna a lavorare nel contatto cioè quindi si generano nuovi lavori grazie alla promozione che hai fatto e quindi bisogna continuare a far girare questa ruota sempre ognuna di queste sei voci a parte la fatturazione che forse è la più semplice e diciamo però diciamo tutte le altre fasi potrebbero essere oggetto di talk separati nel nostro caso oggi parleremo di come presentare un'offerta diciamo e quindi partiamo da una storia vera cioè la mia tratto da una storia vera diciamo all'inizio siamo noi siamo noi ci conosciamo abbiamo una faccia abbastanza serena però comunque siamo sulle nostre siamo determinati e tutto a un certo punto dopo che ci siamo conosciuti scatta la domanda la domanda cruciale mi fai un preventivo ecco la parola preventivo ormai mi fa diciamo avere una sorta di sincope e diciamo la accetto perché bisogna essere tolleranti in quello che ricevi e conservatori diciamo in quello invece che emettiamo noi quindi ok tu me lo chiedi come preventivo io non la penso più come un preventivo la penso come un'offerta e se prendo l'esempio del mio gommista per esempio lui la risolve abbastanza facilmente prende un post it ok un treno di gomme ti costa così un altro treno di gomme ti costa così poca spiegazione contrattazione molto rapida e quindi tu cosa vuoi e si inizia a montare le gomme invece naturalmente io ritorno sulle mie lucubrazioni col mio bel cipollone a masticare e a lacrimare come cercare di presentare bene un'offerta e alla fine dei conti ho capito che bisogna spiegare tutto cioè non dare niente per scontato non è come dire scontato che un cliente conosca già come il mestiere nel mio caso di grafico ma in qualunque nostro mestiere non sa come lavoriamo non sa chi siamo e non sa che cosa gli possiamo offrire diciamo davvero sa di che cosa voglia lui magari un sito veloce per esempio pure non so un un logo poi si vedrà quindi ho iniziato a capire che ci sono diverse fasi nella parte solo di offerta quindi stiamo lavorando solo su quel settorino lì lassù in alto di offerta per cui c'è la parte di ascolto poi c'è la parte in cui noi ci mettiamo a scrivere un offerta quindi non il preventivo ma un offerta dopo andremo a vedere perché non è solo un preventivo ma un offerta poi c'è la parte di trattativa che va in qualche modo diciamo stimolata agevolata quindi anche secondo me almeno per come la vedo io come il mio metodo quindi parlarne abituarsi a parlare di soldi abituarsi a parlare di progetto prima di iniziare questo fa parte dell'acquisire anche sicurezza eh l'ho acquisita con il tempo non è una cosa che diciamo è nata però è una cosa cruciale che aiuta a togliersi da molti gineprai successivi e poi la parte di contratto cioè mettiamo giù per iscritto effettivamente qual è il nostro accordo poi regola numero uno prendiamo un appuntamento cioè questa cosa è anche questa l'ho imparata molto col tempo però è fondamentale un appuntamento è un investimento è qualcosa che ci lega al nostro cliente e quindi è uno sforzo che facciamo entrambi per venirci incontro è una sorta di rispetto che ci dimostriamo prendendo un appuntamento in questo caso l'appuntamento proprio ci dà la possibilità di spiegare a voce naturalmente si può fare tranquillamente in una call con la condivisione schermo eh si può fare dal vivo eh va benissimo e eh purtroppo non posso negare che una certa influenza su di me nel presentare le cose nel fare un pitch a qualcuno me l'ha data Don Draper eh della serie Mad Men che magari qualcuno di voi conosce e appunto che è diventata famosa non solo per all'alcolismo l'adulterio e tutte quelle cose lì ma anche per è perché è ambientato nel mondo della pubblicità e il modo in cui che lui ha di spiegare la creatività e vendere la creatività al cliente e condurre la discussione di un progetto condurre un progetto a al suo avanzamento è diciamo da scuola insomma da ottima bellissima quindi mi ha molto ispirato e quindi presentare durante un appuntamento ma anche strutturare l'offerta quindi non è un preventivo come quel post it che abbiamo visto dal mio gommista ma strutturare un'offerta e quindi non solo scrivere la cifra in fondo ma raccontare chi sono qui si parla soprattutto per i nuovi clienti che non ci conoscono quindi non diamo per scontato che loro sappiano chi siamo che da dove veniamo come ci collochiamo in un progetto quindi in questo caso io racconto chi sono faccio vedere anche rapidamente da dove vengo da dove ho lavorato diciamo come se fosse un linkedin veloce veloce e poi soprattutto racconto come lavoro queste il punto uno e due sono praticamente uguali per tutte le presentazioni quindi come lavoro i principi dopo vedremo rapidamente due tre cose poi iniziamo a parlare del progetto dal punto tre quindi cosa ho capito che tu mi hai chiesto provo a rimetterlo giù per iscritto perché magari ci aiuta a capire se siamo sulla stessa pagina cosa propongo qual è il calendario quindi quando lo voglio fare e quanto tempo ci vuole a fare questa roba e infine l'offerta quindi proprio le cifre io dopo che ho fatto il corso con marco brambilla che è un altro veterano del freelance camp sulle stime i preventivi non lo so mi ha ispirato questa cosa di dare tre possibilità tre possibilità di progetto ma non tre possibilità di qualità non è come il dentifricio che c'è il dentifricio buono medio e scarso sono di fatto tre versioni diverse del progetto una versione ricca con tante cose una versione meno ricca una versione diciamo ridotta all'osso ma la qualità deve essere sempre altissima del progetto lato mio per come lavoro io bisogna curare i dettagli quindi in questo caso vi faccio vedere rapidamente due tre schemi per cui curare i dettagli della presentazione curare le slide che per quello vabbè io poi lavoro nell'identità visiva sono di parte per cui ogni cosa che presentiamo ha anche una componente visiva anche se non lo vogliamo quindi non possiamo non comunicare anche visivamente e quindi in questo caso vi faccio vedere per esempio alcune slide qui non si leggerà niente naturalmente però per darvi l'idea che voglio raccontare anche come lavoro quindi che per me è importante l'usabilità e l'estetica arriva alla fine quali sono le figure coinvolte in un progetto quindi non c'è solamente il grafico da coinvolgere bisogna lavorare con chi si occupa dei contenuti dello sviluppo web del marketing degli obiettivi di comunicazione e di business che cosa stiamo per affrontare come conduco io i progetti quindi la parte di creatività seguita da quella di esecuzione e poi che divergiamo sulle idee poi convergiamo di nuovo poi divergiamo di nuovo quindi fai capire che sappiamo che cosa stiamo facendo e che li condurremo per mano qui rapidamente anche una bozza di calendario quindi quanto durano le attività e quando si svolgono risultati all'inizio era così diciamo a parte qui ho messo anche il droplet perché immagina adesso fare una roba del genere col covid e all'inizio c'era molta incomprensione io pensavo che tu avresti fatto io no in realtà non mi hai chiesto di fare invece poi ho iniziato a capire che presentandole in questo modo ci siamo iniziati a capire e quindi presentandole durante un appuntamento curando i dettagli spiegando bene che cosa facciamo iniziamo a capirci e quindi alla fine siamo in questa fase che è molto bella di comprensione questo non vuol dire che non ci sia un po di tensione comunque quando c'è il bonifico quindi questa sensazione un po di stress rimane però è molto molto più fluida e quindi possiamo pretendere i bonifici e aspettarceli e fare sì che siano normali quindi riassumendo presentiamo le nostre offerte a voce che sia una call o dal vivo non è importanza raccontiamo come lavoriamo cioè prima di tutto bisogna avere un metodo e poi raccontarlo abbiamo celo non so se si dica in italiano curiamo quel documento perché sarà inoltrato a non sai neanche chi quindi tu mandi un bel documento deve essere ben firmato datato ogni pagina deve essere curata perché non sai a chi sarà inoltrato e quando sarà riaperto magari dopo mesi oggi abbiamo visto solo il punto diciamo qui in alto dell'offerta ci sarebbero da approfondire tutti gli altri temi e li approfondirò io adesso sto lavorando a cercare di raccontare questo metodo lo sto un po costruendo si chiama metodo boschi poco pretenzioso voi direte giustamente contro la mediocrità e ho creato un un url speciale per oggi stavo ero quasi tentato di mettere un qr code però poi ho detto dai vabbè proviamo a scriverlo emma boschi punto net slash freelance camp dove troverete alcuni link per restare eventualmente in contatto se vi piace l'idea ho creato una newsletter che si chiama metodo boschi millesimato e ho un'altra newsletter che si chiama bollettino boschi che invece più diciamo frivola diciamo invece il millesimato dedicato proprio al metodo boschi a questo ragionamento che sto cercando di costruire sul lavorare meglio da freelance e anche da creativi ma anche da freelance quindi due staffe grazie spero di essere stato nel minutaggio giusto scrivetemi perché mi fa piacere sapere che cosa pensate di tutte queste cose che ho detto un po rapidamente grazie Emanuele se non siete ancora iscritti alla newsletter di alle newsletter di Emanuele fatelo immediatamente anche solo per studiare come si fanno delle newsletter veramente belle e anche come si fanno delle diciamo degli onboarding procedure in una newsletter fantastiche usando semplicemente le robe standard che escono fuori dalla scatola di MailChimp grazie che endorsement grazie questo è lo strumento che usate davvero io Emanuele è una delle fonti delle mie slide nei corsi di email marketing e lui lo sa grazie grazie di nuovo tantissimo Emanuele e alla prossima ciao ciao a tutti